Era già stato più volte nella Murgia barese con i suoi Raid Goum, Don Francesco Cassol, il parroco di Longaroni in provincia di Belluno, ucciso la scorsa notte con un colpo di carabina mentre dormiva in sacco a pelo in un campo allestito per la notte con i suoi compagni di viaggio. A quanto si è saputo, questo sembra fosse il quinto anno consecutivo che Don Francesco con i partecipanti a Raid Goum percorreva a piedi l'area murgiana per una settimana circa. I precedenti raduni, infatti, si erano sempre svolti senza problemi di sorta, né con i coltivatori né con i proprietari di fondi agricoli. Insomma, un preti in cammino, ma anche uno dei più stretti collaboratori del Vescovo di Belluno, direttore dell'ufficio pastorale diocesano, in questo ruolo aveva coordinato il sinodo diocesano convocato per rinnovare il rapporto tra la Chiesa e la comunità bellunese. Terminato questo incarico, cinque anni fa, Don Francesco era stato nominato parroco di Longarone, una delle più importanti della diocesi. Preti impegnato, aperto e conciliare, Don Francesco metteva entusiasmo in tutto ciò che faceva, forte l'impegno verso i problemi della società civile, in particolare la crisi del lavoro e le difficoltà delle famiglie. Oggi i suoi giovani lo piangono e Longarone, sconvolta per la perdita di questo sacerdote, così presente e tanto amato, si fa silenziosa. Che cosa ha fatto per la città e per la parrocchia di Longarone? Beh, per la parrocchia di Longarone ha portato dalle novità, si confrontava con i giovani. Su sociale era presidente di una comunità, Landris, e portava sempre degli aiuti in modo concreto per i terremotati, raccoglieva per le persone bisognose anche di Longarone, ma non solo di Longarone. È una persona che, un parroco che noi perdiamo immensamente come personaggio, come parroco, è una perdita enorme. Lo conoscevo di anni, se sta vent'anni fa, che era professore di mia figlia. E com'era? In gamba, era veramente un ottimo professore di religione. Penso abbia fatto tutto il possibile, quello che poteva fare. Ha dato tanto e avrà anche ricevuto tanto dai giovani sicuramente. Però mancherà tanto, soprattutto ai giovani e anche a tutti noi. Mancherà moltissimo.